Siete sul punto di entrare in una zona densa di rivelazioni sulla trama della serie Terra Amara, un fenomeno televisivo che ha catturato l'attenzione di un vasto pubblico internazionale. Il video che mi appresto a condividere con voi è carico di informazioni e anticipazioni che svelano gli intricati sviluppi narrativi, inclusi gli eventi climatici che portano al suo emozionante culmine. Per coloro tra voi che hanno un debole per l'imprevedibilità e il piacere della scoperta spontanea, questo potrebbe essere il momento di fare un passo indietro per preservare l'elemento sorpresa che rende la prima visione un'esperienza così unica e coinvolgente. Per gili amanti della serie che hanno seguito fedelmente ogni svolta e ogni colpo di scena, questo video rappresenta una miniera d'oro di conferme e risposte alle teorie che avete costruito con passione. Vi avverto, procedere potrebbe alterare drasticamente la vostra attesa del finale, fornendo un quadro compiuto degli eventi chiave che stanno per svolgersi. La lingua originale, il turco, aggiunge un ulteriore strato di autenticità e profondità alla serie, arricchendo la narrazione con le sue sfumature e il suo ritmo unico. Per chi non è adeguatamente equipaggiato per godersi la serie nella sua lingua originale, il video potrebbe non essere la scelta ideale. Ma non temete, esistono sempre alternative, come le versioni doppiate o i sottotitoli, che possono fornire un'esperienza visiva completa senza perdere le sottigliezze del linguaggio originale. Per gli spettatori non dissuasi dalle barriere linguistiche e da una rivelazione anticipata della trama, vi invito a proseguire. Vi fornirò un'analisi accurata e approfondita, tessendo insieme i fili narrativi e disvelando il percorso dei personaggi mentre si dirigono verso il gran finale. Un finale che promette di essere ricco di tensione emotiva, di risoluzioni tanto attese quanto sorprendenti e che sicuramente provocherà discussioni e riflessioni lunghe dopo la sua conclusione. Dunque, se siete pronti per questo viaggio all'interno dell'epilogo di Terra Amara, respirate profondamente e preparatevi a immergervi in una disamina dettagliata che vi guiderà attraverso i meandri della storia, prima di assistere all'epica conclusione che attende i nostri amati personaggi. Nel gran finale di Terra Amara, che si svolge attraverso quattro stagioni, gli appassionati spettatori della SOP turca saranno testimoni della tragica morte di Yilmaz in un incidente stradale. Non sarà l'unico a perdere la vita. Demir Yaman sarà trovato senza vita in un frigorifero dopo diversi giorni e anche la madre Hunkar, che nel corso degli episodi diventa un alleato prezioso, incontrerà un destino simile. Alla villa Yaman perderemo anche Sanije e Gulten e persino Fekeli. È davvero una strage che si protrarrà per tutte e le stagioni, in particolare nelle prime tre. La scomparsa di Yilmaz, Demir e Hunkar costituirà un profondo punto di svolta nella vita di Zuleya, che dovrà affrontare una serie di drammatici cambiamenti. Tuttavia, grazie alle preziose anticipazioni provenienti dalla Turchia, siamo in grado di raccontarvi una vincente evoluzione nella trama. Zuleya, nonostante le avversità, scoprirà un nuovo e sorprendente amore di nome Akan, un personaggio introdotto con maestria nella quarta stagione. Questa nuova relazione le offrirà l'opportunità di immergersi in una favola d'amore che in passato le era stata negata. La connessione tra Zuleya e Heikan sarà così intensa e profonda che sembrerà sfidare le stesse leggi dell'universo. L'armonia tra i due sembrerà inarrestabile e per un breve periodo saranno un faro di luce nella vita di Zuleya. Tuttavia, l'ingiustizia colpirà ancora una volta quando Akan verrà tragicamente assassinato, gettando Zuleya in un abisso di dolore e disperazione senza fine. Zuleya, la protagonista dalla forte determinazione, affronta un periodo di sconvolgimento emotivo nel quale il senso di perdita si fa profondamente radicato nella sua esperienza di vita. Mentre la trama si dipana, si scopre che Zuleya, dopo aver percorso un lungo cammino alla ricerca della felicità, si ritrova a confrontarsi con una realtà straziante. L'amore, quell'emozione trascendente che aveva riscoperto e nutrito con cura, le è stato improvvisamente e brutalmente sottratto, lasciandola a confrontarsi con un vuoto che sembra incolmabile. La decisione di Zuleya di chiudere il suo cuore agli slanci romantici non è presa alla leggera. È piuttosto un atto di autodifesa, un modo per proteggere la sua anima dal rischio di ulteriori ferite. Tuttavia, il bisogno di dare un senso alla sua esistenza, la spinge a trasformare il suo dolore in un impegno senza riserve verso i suoi figli e verso le iniziative di beneficenza nella sua città di Chukurova. Attraverso questo percorso di dedizione, Zuleya inizia a tessere una nuova rete di significati per la sua vita, diventando una figura materna e un faro di speranza per molti. Il suo lavoro e la sua passione per le opere caritatevoli non passano inosservati. La sua reputazione cresce e ben presto diventa una delle figure più venerate della comunità. La stima che riceve dai cittadini di Chukurova presto trascende i confini locali e il suo nome diventa sinonimo di compassione e resilienza. La sua storia diventa fonte di ispirazione, un esempio di come la sofferenza possa essere trasformata in forza e di come un individuo, anche attraverso le tempeste più oscure della vita, possa emergere con una nuova dignità e uno scopo rinnovato. La narrazione di Zuleya si svolge con una potenza emotiva che cattura il cuore degli spettatori, lasciando un'impronta indelebile e offrendo una testimonianza del potere salvifico, dell'amore incondizionato e dell'altruismo. Così, mentre gli altri personaggi della trama hanno concluso le loro storie, Zuleya rimarrà il fulcro di una narrazione epica che attraversa le sfide della vita e la resilienza di fronte alle avversità. La sua storia diventerà una leggenda, ispirando generazioni a venire con la sua forza e il suo spirito indomito. Zuleya sarà una figura iconica, un faro di speranza nel buio della notte, la cui luce guiderà coloro che cercano il significato dell'amore, della perseveranza e della nobiltà d'animo. Fikret, un personaggio chiave della soap opera, si trova di fronte a un periodo di intensa turbolenza emotiva e narrativa. Mentre ci avviciniamo alle tensioni della quarta stagione, l'arco del suo personaggio prende una svolta decisiva. Fikret, che è stato attraversato da una serie di sfide e difficoltà, si ritrova a navigare in un mare di ostacoli che mettono alla prova la sua resilienza e la sua capacità di redenzione. Dopo aver affrontato e superato una miriade di errori del suo passato, che hanno contribuito a formare il suo percorso tumultuoso, egli inizia a intravedere una luce di speranza sul suo cammino. Nonostante le avversità e gli imprevisti che hanno caratterizzato le stagioni precedenti, la sua determinazione non vacilla. Nelle battute conclusive della quarta stagione, l'audience assisterà a un sorprendente sviluppo. Fikret, con una forza ritrovata e una visione più chiara del futuro, riesce non solo a sopravvivere, ma anche a trovare la persona con cui desidera condividere la sua vita. Questa nuova alleanza sentimentale segnerà all'inizio di un capitolo promettente per Fikret, che sembra finalmente pronto a lasciarsi alle spalle le ombre del passato e a costruire un domani ricco di potenzialità e di condivisione. La nonnina, con i suoi capelli argentati e gli occhi colmi di saggezza, diventerà la narratrice suprema di questa travolgente storia. La sua voce delicata risuonerà attraverso i secoli, trasmettendo le vicende, gli affetti e le passioni di terra amara alle generazioni future. Ogni dettaglio, ogni emozione e ogni sussurro d'amore e tradimento saranno accuratamente custoditi nelle sue parole, in modo che la storia possa vivere per sempre nei cuori e nelle menti di quanti ascolteranno il suo racconto. Zuleyha emerge come una figura di straordinaria bellezza e fascino, la cui presenza luminosa e l'aura di forza interiore la rendono un vero e proprio punto di riferimento nella vita della nonnina, un'anziana signora che ha vissuto l'interezza della sua vita accumulando esperienze e saggezza. In Zuleyha, la nonnina vede il riflesso delle generazioni passate, la scintilla di vita che continua a bruciare attraverso le epoche, trasportando con sé il fuoco della passione e la forza di volontà che hanno caratterizzato anche la sua gioventù. Zuleyha diventa così la musa ispiratrice della nonnina, il simbolo vivente dell'eterno ciclo della vita che si rinnova, un faro di speranza che rischiara le tenebre più impenetrabili, simile a una stella lucente che guida i naviganti attraverso la notte. Al suo fianco, Zuleyha apprenderà a navigare le acque tumultuose della gioia e della tristezza, sperimentando il contrasto tra la freschezza delle nuove scoperte e il dolore degli addi inevitabili. La nonnina, con la sua infinita riserva di storie e insegnamenti, si dedicherà a condividere con Zuleyha le lezioni più preziose apprese durante il corso della sua esistenza. Attraverso i racconti tessuti con amore e nostalgia, ella trasmetterà a Zuleyha non solo la saggezza accumulata, ma anche le tradizioni, i valori e le esperienze che hanno plasmato la sua vita e quelle delle donne che l'hanno preceduta. In questo scambio intergenerazionale, Zuleyha assorbirà le perle di conoscenza che la nonnina ha raccolto come fossero pietre preziose lungo il cammino della sua lunga vita. Insieme, le due donne creeranno un legame che trascende il semplice rapporto di conoscenza. Sarà un connubio di anime, un intreccio di passato e futuro, dove la resilienza e la forza d'animo di Zuleyha si uniranno alla profondità e alla maturità della nonnina. Questa sinergia si svilupperà in una relazione ricca e complessa, nella quale entrambe troveranno conforto, ispirazione e, soprattutto, un senso di continuità che porterà avanti la luce delle loro esistenze ben oltre il confine del tempo presente. Mentre gli altri personaggi hanno concluso il loro viaggio nella trama, Zuleyha e la nonnina continueranno a camminare insieme verso l'infinito. Il loro legame indissolubile sarà un simbolo di amore, perseveranza e continuità. Con la nonnina come guida e Zuleyha come custode delle tradizioni, Terra Amara vivrà per sempre, sfidando il tempo e le avversità, una storia che sarà tramandata di generazione in generazione, incisa nel cuore della memoria collettiva. Ricordati, il gran finale della serie televisiva Terra Amara è atteso con grande anticipazione, segnando il termine di un'epopea che ha tenuto incollati allo schermo milioni di spettatori. La conclusione è prevista per la primavera del 2024, un momento che si preannuncia come un evento televisivo di significativa importanza, destinato a lasciare un'impronta indelebile nel cuore dei fan. Nel cuore pulsante di questo epilogo troviamo Adnan, un personaggio che abbiamo visto crescere e maturare nel corso delle stagioni, ormai divenuto adulto. Adnan si trova di fronte a una svolta professionale e personale che definirà il suo futuro, la decisione di trasporre in pellicola la narrazione intricata e ricca di pathos della storia della sua famiglia. Il progetto è ambizioso quanto sentito, una sorta di testamento cinematografico che vuole rendere onore e perpetuare il retaggio familiare. Il fulcro di questo film è la figura di sua madre, Zuleya, che Adnan intende ritrarre nella sua maestosità di grande signora di Ciukurova. La scelta di farla protagonista non è casuale. Zuleya è l'archetipo della matriarca forte e resiliente, una donna che ha superato innumerevoli sfide e che rappresenta il legame inossidabile che unisce le varie generazioni della famiglia. È lei il simbolo della tenacia e del coraggio, valori che Adnan desidera evidenziare e celebrare attraverso la sua arte. Nel tessere questo racconto, Adnan si imbatte in una rivelazione storica che aggiunge uno strato di profondità al già ricco mosaico familiare, la storia di Abdipasha, una figura militare ottomana di rilievo. Questo racconto gli viene svelato dalla bisnonna che, poco prima della sua morte, decide di condividere con il pronipote ghieli episodi meno noti della saga familiare. Questo personaggio storico, fino ad ora avvolto da un velo di mistero, emerge come una figura di grande impatto, il cui spirito e le cui gesta sono state tramandate di generazione in generazione, fino a diventare quasi leggendarie. La bisnonna, custode della memoria e del patrimonio storico della famiglia, affida a Adnan non solo i ricordi, ma anche il compito di preservarne l'integrità e di raccontarli con la dovuta reverenza. La sua narrativa diventa un ponte tra, passato e presente, un'eredità che Adnan accoglie con il rispetto e la serietà che meritano. Attraverso la realizzazione di questo film, Adnan non soltanto celebra la figura di sua madre e le radici della sua famiglia, ma si impegna in un viaggio di riscoperta personale e collettiva, dove i confini tra storia personale e storia collettiva si fondono. Il film si appresta a diventare una dichiarazione d'amore filiale, un omaggio alle generazioni passate e una testimonianza per quelle future, un'opera che riafferma l'importanza delle radici e della storia personale nel definire la nostra identità. Amine muore a 109 anni nel 2011, circondata dall'affetto dei suoi cari. Anche il finale della serie condivide la sua morale durante la presentazione del film di Adnan al Festival di Berlino, dove ottiene un enorme successo, affermandolo come regista di fama mondiale. Nel momento clou della saga televisiva Terra Amara, il giovane Adnan si trova immerso nell'ascolto della narrativa avvolgente e storica di Abdi Pascha, una figura emblematica che ha esercitato un'influenza significativa nelle vicende della sua famiglia. L'epilogo della serie, carico di rivelazioni e di momenti catartici, vede Adnan e la sua bisnonna Amine come figure centrali che tessono insieme le ultime pagine di una storia densa di eventi e sentimenti. Adnan, il figlio resiliente di Zuleia e Yilmaz, è un uomo modellato dalle avversità e dalle esperienze che lo hanno segnato fin dalla tenera età. La sua vita è stata un mosaico di episodi tumultuosi, intrisi di emozioni forti, dai rapimenti che hanno turbato la sua infanzia, alle vendette familiari che hanno segnato la sua linea dinastica, fino alle perdite dolorose che hanno impresso cicatrici profonde sul suo cuore. Ogni prova ha contribuito a forgiare il suo carattere, rendendolo un uomo di spessore e di complessità. Ma, nonostante gli scossoni e le turbulenze che hanno caratterizzato il suo percorso, Adnan ha potuto sempre contare su un affetto incondizionato, un punto fermo nella sua esistenza, l'amore di suo padre Yilmaz, la cui presenza è stata costante e rassicurante, e quello di Demir, che, nonostante i conflitti e le tensioni, ha saputo dimostrargli un legame indissolubile. Con il desiderio di dare voce a queste vicende, di esplorarne la profondità e di condividerle con il mondo, Adnan decide di impiegare il suo talento e la sua passione per il cinema nella realizzazione di un film. Non un semplice film, ma un'opera che si prefigge di essere lo specchio di una realtà complessa, di essere il veicolo di una verità che merita di essere raccontata. Il film è un omaggio alla figura di sua madre, Züleyah, che ha incarnato con dignità e forza il ruolo di madre, di moglie, di donna, in una società in cui questi ruoli erano spesso messi alla prova. Il progetto cinematografico di Adnan si configura quindi come un viaggio retrospettivo, un processo di introspezione e di riscoperta. Attraverso la pellicola vuole trascrivere la resilienza, la passione, il dolore e l'amore che hanno permeato la vita di sua madre e, per estensione, la sua. Vuole rendere omaggio alle lotte, celebrare i trionfi e, soprattutto, immortalare la forza dello spirito umano di fronte alle avversità. Il processo di creazione del film diviene un atto di memoria e di dedizione. Adnan si dedica alla raccolta di materiali, di aneddoti, di fotografie e di lettere. Consulta archivi, registra interviste e si immerge in un profondo lavoro di documentazione per assicurarsi che ogni dettaglio narrato sia fedele alla realtà, che ogni frammento della storia sia autentico e rispettoso della veridicità, dei fatti e dei sentimenti. Nel narrare la storia di sua madre, Adnan si confronta anche con la sua eredità, con la consapevolezza che il film che sta per realizzare è anche una testimonianza della sua identità, un mosaico di ricordi e di esperienze che hanno plasmato sia la sua vita che quella dei suoi antenati. È un tributo alla sua famiglia, ma anche un dialogo con le generazioni future, un lascito che trascende il personale per toccare l'universale. La bisnonna Hammine lo assiste, ma condivide anche la storia di Abdipasha, un militare ottomano del 1800 che lei, a causa della sua demenza senile, ha sempre scambiato per il suo fidanzato. Hammine muore circondata dall'affetto della sua famiglia. La dolce nonnina di Chukurova aiuta Adnan a scoprire eventi familiari di cui non era completamente a conoscenza. Grazie ai preziosi racconti della bisnonna, Adnan può ricostruire esattamente ogni episodio della storia della famiglia Yaman. In una svolta decisiva per la sua crescita personale e professionale, Adnan sceglie di lasciare la sua terra natia per trasferirsi in Inghilterra, un luogo rinomato per le sue prestigiose accademie di cinema, dove potrà affinare il suo mestiere sotto la guida dei migliori maestri del settore. L'Inghilterra si rivela essere il terreno fertile per la crescita artistica di Adnan, un ambiente ricco di stimoli culturali e di opportunità che gli permette di esplorare le diverse sfaccettature del linguaggio cinematografico, affinando la sua visione e la sua sensibilità narrativa. Durante il suo percorso accademico e le esperienze che ne seguono, Adnan si immerge in un progetto che lo coinvolge a fondo, un'impresa cinematografica che considera il suo capolavoro, un film intitolato Zuleia, la grande signora di Cucurova. Quest'opera non è soltanto un film, è un monumento alla figura materna, un tributo alla donna che ha plasmato la sua esistenza e quella di tanti altri. Zuleia, la matriarca, la colonna portante di una famiglia e di una comunità intera diventa l'epicentro di una narrazione che intreccia dramma personale e storia collettiva, amore e sacrificio, resilienza e redenzione. Il processo creativo di Adnan è meticoloso e immersivo. Egli trascorre innumerevoli ore a raccogliere testimonianze, a ricercare nei dettagli più minuti la verità degli eventi che hanno caratterizzato la vita di sua madre. La sua dedizione è tale che ogni fotogramma del film trasuda l'autenticità e la profondità emotiva delle storie che vuole raccontare. Adnan si circonda di una truppa di professionisti altrettanto appassionati, selezionando attori che possano incarnare i personaggi con la stessa intensità con cui hanno vissuto. La produzione diventa una sinfonia di talenti, tutti sintonizzati sull'ambizioso intento di rendere giustizia alla storia di Zuleia. Quando finalmente Zuleia, la grande signora di Kukurova, viene presentato in anteprima al Festival di Berlino, l'emozione è palpabile. Il Festival è una vetrina di prestigio internazionale, un luogo dove i film sono apprezzati non solo per il loro valore estetico, ma anche per la loro capacità di toccare temi universali e di connettere pubblici di diverse culture. Il film di Adnan si distingue per la sua carica emotiva, per la narrazione avvincente e per la raffinata qualità visiva. È la storia di sua madre, ma anche la storia di ogni individuo che si trova a combattere contro le avversità, mantenendo viva la speranza e l'amore. Il film si dipana attraverso gli eventi che hanno segnato la vita di Zuleia, ma anche attraverso quelli delle persone che ne hanno intrecciato il destino. È un racconto che si estende oltre la singola esistenza, toccando le corde dell'esperienza umana collettiva. Il pubblico al Festival di Berlino assiste non solo alla proiezione di un film, ma alla manifestazione di un'eredità che trascende il tempo e lo spazio, che risuona con la potenza di una verità condivisa e profondamente personale. Con la sua opera, Adnan non solo celebra la vita di sua madre, ma eleva la sua storia a simbolo di perseveranza e di umanità indomita. La morale del film sintetizza l'essenza della sua app, a tratti dura ma molto coinvolgente. È una storia in cui l'amore è per sempre, i combattimenti sono spesso mortali, ma la speranza trionfa su tutto. Ricordati di nell'attesa e attesissima conclusione della saga di Terra Amara, la quarta stagione si preannuncia come un capitolo finale emozionante e ricco di svolte inaspettate per i personaggi che hanno abitato le vibranti terre di Chukurova. Il pubblico, fedele compagno di questa avventura narrativa, sarà testimone di una chiusura narrativa che si prevede sia carica di tensione e risoluzione, dove i nodi verranno al pettine e i destini intrecciati si dipaneranno con giustizia. Ma vi lascio con una domanda. Secondo voi Uzum potrebbe essere in realtà figlia di Demir? Abbiamo visto nel corso delle puntate che Demir tiene molto alla bambina. La tensione crescerà episodio dopo episodio, conducendo gli spettatori attraverso un vortice di emozioni in cui la lotta per il potere e la redenzione si scontrano. Betul, la figlia determinata ma moralmente corrotta di Sermin, scoprirà che le sue azioni nefaste hanno un prezzo quando si troverà di fronte alla severità della legge. Condannata per l'omicidio di Hakan, il suo ambizioso piano di prendere il controllo dell'impero Yaman, si sgretolerà davanti ai suoi occhi, lasciandola a meditare sui suoi errori dietro le sbarre della prigione. La sua discesa sarà un monito potente sui pericoli della cupidigia e del potere usurpato. Nel frattempo, Zuleya, la donna dallo spirito indomito e dal cuore generoso, continuerà a essere il faro di speranza e prosperità per le terre che tanto ama. La sua forza interiore e la sua resilienza saranno un esempio luminoso per tutti coloro che la circondano, mentre protegge e valorizza l'eredità di Chukurova. La sua vita sarà intrisa di sfide, ma il suo legame indissolubile con la terra e la sua comunità la guideranno verso un futuro di pace e abbondanza. L'arci narrativo troverà ulteriore risoluzione nella giusta punizione dei criminali che hanno oscurato le vite di Sanije e Gulten. In una catartica vittoria del bene sul male, i responsabili saranno chiamati a rendere conto delle loro azioni, restituendo un senso di ordine e di giustizia al mondo di terra amara. La comunità di Chukurova, così duramente provata dalle tragedie e dalle malefatte, potrà finalmente respirare un'atmosfera di rinnovata tranquillità, guardando al futuro con ottimismo e speranza rinnovata. In questo ultimo atto, terra amara promette di lasciare un'impronta indelebile nel cuore dei suoi spettatori, tessendo un finale in cui la redenzione e la giustizia non sono solo desiderate, ma effettivamente raggiunte. Sarà un saluto degno per una serie che ha saputo raccontare con maestria le vicende umane, intricate come le radici degli alberi nelle terre feconde di Chukurova. In un clima di rinnovato ottimismo che segue le tumultuose vicissitudini di terra amara, il personaggio di Fikret si appresta a vivere una svolta significativa nella sua esistenza. Superate le tempeste emotive e le complesse dinamiche familiari, troverà finalmente serenità e contentezza nel matrimonio con Zeynep. La loro unione, sbocciata forse tra le avversità, sarà un'espressione di amore e di impegno reciproco, un legame solido che si rafforzerà con la nascita della loro bambina, la piccola Mushgan. Questo evento lieterà le loro vite, portando una nuova dimensione di gioia e un senso di completamento alla loro relazione. La decisione di chiamare la figlia Mushgan non sarà casuale, ma un omaggio alle radici e alle generazioni passate, un modo per onorare la memoria e l'eredità familiare. La bambina crescerà circondata da amore e attenzioni, divenendo il simbolo della loro speranza e del loro futuro. Nel frattempo, Fikret dimostrerà il suo carattere altruista e la sua profonda capacità di cura assumendosi la responsabilità di Kerem Ali. La sua figura paterna e protettiva sarà un punto di riferimento per il ragazzo, offrendogli un modello di integrità e di forza. Il legame tra Fikret e Kerem Ali sarà testimone di momenti di grande affetto e crescita reciproca, consolidando un rapporto che va oltre i legami di sangue. Parallelamente, Uzum, un personaggio che ha sempre coltivato la determinazione e l'ambizione, intraprenderà un viaggio di crescita personale e professionale che la vedrà realizzare il suo sogno più grande, diventare una dottoressa. Questo percorso non sarà privo di ostacoli, ma grazie al suo impegno costante e alla sua sete di conoscenza, riuscirà a superare ogni sfida. Il suo successo sarà un trionfo non solo personale, ma anche per la comunità che l'ha vista crescere, dimostrando che con dedizione e lavoro duro, i sogni possono diventare realtà. Uzum, attraverso la sua aspirazione e il suo impegno, arriverà a dirigere un reparto pediatrico in uno degli ospedali più prestigiosi di Chicago, negli Stati Uniti. La sua carriera sarà costellata di traguardi e riconoscimenti e il suo nome sarà sinonimo di eccellenza nel campo medico. La sua vita sarà un esempio di come la passione, unita alla competenza, possa portare a risultati straordinari, ispirando così le future generazioni di medici. Gli sviluppi finali mostrano che la giustizia prevarrà. Betul, arrivata a Ciukurova con l'intento di usurpare la fortuna di Zuleia, finirà in carcere con una condanna a 24 anni per aver organizzato l'omicidio di quest'ultima. Tuttavia sarà il marito di Zuleia, Haqqan, a proteggerla sacrificando la propria vita. I colpevoli della morte di Sanye, Egulten, Abdul Kadir e Kolak riceveranno la condanna all'ergastolo, mentre Vaap, che arriverà armato di bombe al matrimonio di Fikret e Zeynep, sarà arrestato. Nei flash forward si narra del futuro prospero di Fikret e Zeynep, che cresceranno la figlia Mushgan insieme a Kerem Ali, portando avanti un'importante industria tessile. Dopo il triste epilogo che ha visto la morte di Sanye, un capitolo doloroso nella vita di Gaffur, si aprirà una nuova pagina ricca di speranza e rinnovamento. Il cuore affranto di Gaffur troverà consolazione quando i suoi giorni saranno nuovamente illuminati dall'amore e dalla compagna Gulsum. La loro unione, celebrata con una cerimonia intima ma carica di significato, segnerà l'inizio di una nuova fase della vita per Gaffur, un periodo di felicità e accettazione dopo il lutto. Nel frattempo Uzzum, la cui determinazione ed edizione Aghe e gli studi non sono mai venute meno, vedrà finalmente i frutti del suo laborioso percorso accademico. Il suo sogno di diventare una dottoressa si concretizzerà in modo esemplare quando, dopo anni di impegno e sacrifici, si trasferirà negli Stati Uniti per perseguire la sua carriera. Lì, le sue ambizioni la guideranno fino alla prestigiosa posizione di capo del reparto pediatrico in uno degli ospedali più rinomati di Chicago. La sua scesa professionale sarà un viaggio di successi e riconoscimenti, poiché Uzzum dimostrerà non solo una competenza eccezionale, ma anche una profonda empatia e un'impareggiabile capacità di curare i piccoli pazienti. La sua vita negli Stati Uniti sarà ricca di sfide ma anche di immense soddisfazioni personali e professionali, mentre si affermerà come una figura di spicco nel campo della medicina pediatrica. Gaffur, dal canto suo, seguirà con orgoglio il percorso di Uzzum da lontano, supportandola con tutto l'amore di un padre. Celebrerà ogni successo come se fosse il proprio, trovando nella realizzazione di Uzzum una fonte di gioia che compenserà il vuoto lasciato dalla perdita di Sanie. Il matrimonio con Gulsum e il successo di Uzzum saranno le colonne portanti di una nuova era nella vita di Gaffur, segnando un trionfo personale e familiare che porterà con sé una pace e una felicità a lungo cercate. Ora Terra Amara si è affermata come una delle SOP opera più seguite di Mediaset. Secondo alcune voci, la rete sta considerando la possibilità di trasmetterla in prima serata una volta alla settimana. Mentre in Italia la serie ha conquistato il cuore dei fan in un anno, in Turchia ha già concluso le sue trasmissioni, rendendo noto il finale. Nel finale appassionante della SOP opera Terra Amara, il personaggio di Zuleyha attraversa una serie di eventi travolgenti che trasformano radicalmente la sua vita. Dopo aver perso i due uomini della sua vita, Demir e Yilmaz, Zuleyha si ritrova a dover affrontare un nuovo capitolo emotivo. Incontra Hakan, un uomo che inizialmente la inganna presentandosi sotto un falso nome, ma che alla fine riesce a conquistare la sua fiducia e il suo cuore. La relazione tra Zuleyha e Hakan evolve gradualmente. Inizialmente Zuleyha è diffidente a causa del suo passato doloroso e delle menzogne di Hakan. Tuttavia, il costante impegno e il sincero pentimento di Hakan riescono a far breccia nel suo cuore ferito. Dopo aver superato diversi ostacoli e incomprensioni, la loro relazione si rafforza, portando Hakan a fare la proposta di matrimonio a Zuleyha. Questo momento rappresenta un barlume di speranza e felicità nella vita di Zuleyha, un'opportunità per ricominciare e costruire un nuovo futuro. Tuttavia, questa nuova felicità si trasforma in tragedia in un modo che nessuno avrebbe potuto prevedere. In un drammatico sviluppo, Hakan rimane vittima di una sparatoria. Questo evento tragico lascia Zuleyha in uno stato di profonda disperazione e solitudine. Perde l'uomo che aveva imparato ad amare e con cui aveva iniziato a vedere un futuro possibile. Ma la forza di Zuleyha non si esaurisce nel dolore. Travolta dalla rabbia e dal desiderio di giustizia, si impegna a trovare i responsabili dell'omicidio di Hakan. La sua ricerca la porta a scoprire che i colpevoli sono Abdul Qadir e Betul. Questi due personaggi, intrisi di malvagità, hanno causato dolore non solo a lei ma anche ad altre persone. La loro fuga verso la Siria aggiunge un ulteriore elemento di tensione alla narrazione. Zuleyha, determinata a non lasciare impuniti i responsabili della morte di Hakan, inizia un viaggio perseguitato dalla sete di giustizia. Questa parte della sua storia mostra un lato diverso del suo carattere. Una donna che, nonostante le numerose sofferenze e perdite, ha la forza di lottare contro l'ingiustizia e la malvagità. Il finale di Terra Amara porta gli spettatori in un viaggio emotivo intenso con Zuleyha. La sua trasformazione da vittima a combattente, la sua determinazione nel cercare giustizia e la sua capacità di affrontare il dolore e la solitudine sono elementi che toccano il cuore dello spettatore, lasciando un'impressione duratura della sua resilienza e coraggio. Nella coinvolgente conclusione della soap opera Terra Amara, Zuleyha, con l'aiuto del suo amico fidato Fikret, intraprende una missione cruciale per trovare giustizia. La sua ricerca si concentra su Abdul Qadir e Betul, quest'ultima già nota al pubblico italiano come la figlia di Sermin. Il loro coinvolgimento in azioni malvage ha lasciato una scia di dolore e sofferenza e Zuleyha è determinata a far sì che paghino per i loro crimini. Zuleyha e Fikret lavorano insieme, unendo le loro forze e le loro risorse per rintracciare i fuggitivi. La loro collaborazione si rivela fondamentale nel processo di ricerca. Dopo molte difficoltà e svolte inaspettate, finalmente riescono a localizzare Abdul Qadir e Betul. La cattura di questi due criminali è un momento di grande tensione e soddisfazione. Zuleyha, con il cuore ancora pesante per il dolore subito, assiste all'arresto, sapendo che finalmente verrà fatta giustizia. Abdul Qadir e Betul, una volta arrestati, si trovano di fronte alla gravità delle loro azioni. Devono rispondere non solo per l'omicidio, ma anche per altri crimini gravi che hanno commesso. Il loro destino sembra segnato. Rischiano la pena capitale, una conseguenza delle loro scelte distruttive e del male che hanno causato. Con la cattura e il processo di Abdul Qadir e Betul, Zuleyha inizia a trovare una certa pace. Il peso della vendetta e della ricerca di giustizia inizia a sollevarsi dal suo cuore. Decide di rimanere a Chukurova, il luogo che è stato teatro di tante gioie e dolori nella sua vita. Qui si immerge negli affari della famiglia Yaman, portando avanti l'eredità e ghii ideali che hanno sempre caratterizzato la sua famiglia. Zuleyha si dedica anche alla crescita dei suoi figli, cercando di essere per loro un esempio di forza e resilienza. Vuole assicurarsi che abbiano tutte le opportunità per crescere felici e realizzati, nonostante le avversità e le sfide che hanno affrontato. La loro educazione e il loro benessere diventano la sua priorità principale, mentre cerca di costruire per loro un futuro luminoso e pieno di speranze. La conclusione della storia di Zuleyha in Terra Amara è un viaggio emotivo intenso che va dal dolore più profondo alla ricerca della pace e della felicità. La sua capacità di superare le avversità e di costruire una vita migliore per se stessa e per i suoi figli è un messaggio di speranza e ispirazione. La sua popera si conclude lasciando gli spettatori con una profonda ammirazione per il coraggio e la determinazione di Zuleyha, una donna che, nonostante tutto, ha trovato la forza di andare avanti e costruire un futuro migliore. Nella serie, attraverso una serie di salti temporali e affascinanti, viene raccontata la storia della vita adulta dei figli di Zuleyha, Leila e Adnan, mettendo in luce come i loro percorsi siano profondamente influenzati dalle esperienze della loro famiglia. Leila, la figlia di Zuleyha, dopo aver completato i suoi studi in ingegneria nella prestigiosa città di Berlino, intraprende un percorso di vita che riflette i valori e le lezioni apprese dalla sua famiglia. Lei, con la sua forte determinazione e la passione per la scienza, trova l'amore in un uomo che rispecchia la bontà e l'integrità che ha sempre cercato. Il matrimonio di Leila è un momento di gioia pura per lei e per la sua famiglia, un simbolo di speranza e di inizio di una nuova vita. Quando Leila diventa madre, sceglie di chiamare suo figlio Demir, in onore di suo padre, un gesto che sottolinea il profondo legame e il rispetto che ha per le sue radici e la sua famiglia. Adnan, il figlio di Zuleyha, segue un percorso diverso. Fin da giovane è stato affascinato dal mondo del cinema e ha coltivato il sogno di diventare regista. Lavorando sodo e seguendo la sua passione, Adnan riesce a realizzare il suo sogno. Il suo film, che narra la storia di Chukurova e della vita di sua madre, è una potente espressione artistica che cattura la complessità e la bellezza delle loro storie. Questo film non solo segna il successo di Adnan come regista, ma diventa anche un tributo alla forza e alla resilienza di sua madre, Zuleyha. Nelle scene finali della serie emerge una rivelazione sorprendente e toccante. Si scopre che la storia di Chukurova è stata narrata da Azize, la nonna di Leila, e Adnan. Ancora viva e una delle persone più anziane della Turchia, Azize si rivela essere la custode della memoria familiare. Il suo racconto fornisce una prospettiva unica e preziosa sulla storia della famiglia e sulle vicende di Chukurova, unendo il passato al presente in un modo che solo lei può fare. Con questo finale dolce amaro, la soap opera si conclude a Chukurova. La narrazione di Azize chiude il cerchio, collegando le generazioni e sottolineando il potere della famiglia, della memoria e delle storie condivise. La fine della serie lascia gli spettatori con un senso di completamento, ma anche con la nostalgia per una storia che ha attraversato il tempo e ha toccato i cuori di molti. Purtroppo questo è il finale che hanno pensato gli autori di Terra Amara. A me non è piaciuto tantissimo, devo dirti la verità. Avrei preferito ad esempio che fossero arrivati alla fine della storia anche personaggi come Hunkar e Yilmaz. E tu cosa ne pensi? Ti è piaciuto questo finale di Terra Amara? Avresti preferito un finale diverso? Scrivi la tua teoria nei commenti sotto al video. Ricordati inoltre nel vasto e complesso mondo delle soap opera, poche storie hanno la capacità di catturare l'attenzione e l'emozione del pubblico come Terra Amara. Con il suo intreccio di drammi familiari, intrighi amorosi e colpi di scena inaspettati, questa serie ha conquistato una vasta schiera di fedeli spettatori. E come ogni grande narrazione, ci avviciniamo ad un finale che promette di essere memorabile, soprattutto per i fan che hanno seguito con dedizione ogni episodio. Il 2024, su Canale 5, vedrà andare in onda questo atteso episodio conclusivo. Le anticipazioni, che stanno creando grande attesa tra il pubblico, indicano che un capitolo fondamentale sarà dedicato al personaggio di Zuleyha. Questa donna, che ha attraversato tante fasi e sfide nella serie, si troverà di fronte ad una delle decisioni più difficili della sua vita. Zuleyha, che nel corso delle stagioni ha dimostrato una forza e una determinazione ineguagliabile, si ritroverà a fare conti con il suo cuore. L'amore, che è stato una costante e talvolta tumultuosa presenza nella sua vita, sembra portarla verso un bivio cruciale. Dopo aver vissuto passioni ardenti, amori travolgenti e dolorosi addii, il destino sembra avere in serbo per lei un altro duro colpo. La rivelazione che dovrà rinunciare all'ultimo grande amore della sua vita è destinata a scuotere non solo il suo mondo, ma anche quello degli spettatori. Ma cosa potrebbe aver spinto Zuleyha a prendere una decisione così radicale? Quali eventi hanno portato a questa svolta drammatica? E come reagiranno gli altri personaggi di Terra Amara di fronte a questa scelta? Queste sono solo alcune delle domande che affolleranno la mente dei fan mentre si avvicinano alla trasmissione del finale. L'anticipazione, tuttavia, suggerisce una conclusione amara per Zuleyha. Decidere di chiudere per sempre con l'amore non è una scelta da prendere alla leggera e il suo percorso verso questa decisione promette di essere un viaggio emozionale intenso e ricco di riflessioni. Il pubblico si prepara a seguire con trepidazione questi ultimi, cruciali momenti, sperando in un finale che renda giustizia alla complessità e profondità del personaggio di Zuleyha. Spazio anche alle vicende di Fikret che, al contrario, nel finale di sempre della soppopera avrà modo di voltare pagina e lo farà convolando a nozze con una new entry della quarta stagione che sarà in grado di conquistare il suo cuore. Nel dettaglio, le anticipazioni sul finale di sempre di Terra Amara rivelano che per Zuleyha arriverà una nuova clamorosa batosta da digerire, dato che la donna si ritroverà costretta a dover dire addio e salutare per sempre anche il suo ultimo fidanzato. Trattasi di Akan, l'uomo che dopo la morte di Demir sarà in grado di conquistare il cuore della protagonista femminile della soppopera pomeridiana trasmessa su Canale 5. Tra i due, trionferà la passione e il sentimento che li lega li porterà a fare dei progetti di vita importanti, tanto da deciderà di unirsi ufficialmente in matrimonio e dedicarsi alla costruzione di una famiglia tutta loro. Peccato però che i sogni di gloria e le speranze della coppia verranno brutalmente spazzati via da un terribile attentato che spezzerà per sempre la vita di Akan. Per l'uomo non ci sarà nulla da fare e Zuleyha si ritroverà costretta a dirgli addio per sempre, lasciandosi andare all'ennesimo momento di grande disperazione. Le anticipazioni di terra amara rivelano che, in questo modo, la signora di Cucurova dirà addio per sempre all'ultimo grande amore della sua vita e deciderà di dare una svolta epocale alla sua vita. Da questo momento in poi, infatti, la donna non intende più dedicarsi all'amore, bensì vuole cambiare vita e dedicarsi solo alla famiglia e ai suoi figli. Tuttavia, per un personaggio che si ritroverà costretto a chiudere con l'amore e quindi rinunciare a questo nobile sentimento, ce ne sarà un altro che riuscirà finalmente a ritrovare il sorriso di una volta. Trattasi di Fikret che, nel corso delle puntate conclusive della soap opera, avrà modo di conoscere una nuova donna che si rivelerà quella giusta. L'affascinante Zeynep riuscirà a far battere il cuore del fratellastro di Demir, al punto da convincerlo di essere la persona giusta con la quale mettere su famiglia insieme. La storia tra Zeynep e il fratellastro di Demir è una di quelle trame avvincenti e profonde che cattura l'attenzione del pubblico fin dalle prime battute. Zeynep, con la sua presenza magnetica e il suo fascino ineguagliabile, entra nella vita di questo uomo in un momento cruciale, portando con sé una ventata di freschezza e rinnovato interesse. Non è solo la sua bellezza esteriore ad affascinare, ma è la complessità del suo carattere, la sua forza interiore e la sua capacità di comprendere e connettersi con gli altri a livelli profondi, che la rendono davvero irresistibile. Il fratellastro di Demir, che ha attraversato momenti di incertezza e ha combattuto con i demoni del suo passato, si trova a fronteggiare un nuovo e inaspettato turbamento. Il suo cuore, che per lungo tempo è rimasto chiuso e protetto, inizia a risvegliarsi alla presenza di Zeynep. Ogni loro incontro, ogni conversazione, ogni sguardo condiviso fa crescere in lui una certezza. Zeynep potrebbe essere la chiave per un futuro di felicità e stabilità. E mentre i due si avvicinano sempre di più, diventa evidente che il loro legame va oltre una semplice attrazione fisica. C'è una comprensione mutua, una sorta di sincronicità tra le loro anime, che li spinge l'uno verso l'altro. Lui inizia a vedere in Zeynep non solo una compagna di vita, ma la madre potenziale dei suoi figli, la donna con cui costruire un nido, condividere gioie e sfide e crescere insieme. La decisione di intraprendere il cammino della vita insieme diventa, quindi, una scelta naturale, quasi scontata, in quanto entrambi sentono che il destino li ha uniti per un motivo. La loro storia, intrisa di passione, comprensione e promesse di un futuro luminoso, dimostra che, a volte, le persone giuste entrano nella nostra vita proprio quando meno ce lo aspettiamo, ma esattamente quando ne abbiamo più bisogno. Le attese e intriganti anticipazioni riguardanti il finale della popolare soap opera Terra Amara hanno portato alla luce alcune sorprendenti svolte nelle vite dei personaggi principali. Una di queste riguarda la coppia formata da Fikret e Zeynep. Questi due, che nel corso delle puntate hanno attraversato alti e bassi, condividendo momenti dolci e difficoltà, faranno una scoperta che li renderà euforici e li avvicinerà ulteriormente, la dolce attesa del loro primo figlio. L'eccitazione per l'arrivo di un bambino nella loro vita si mescolerà con le emozioni di Fikret che, ricordando il passato, desidererà dare un significato profondo al nome della bambina. Dopo aver saputo che il piccolo in arrivo è una femminuccia, l'uomo sarà pervaso da un forte sentimento di nostalgia. Il nome Mushgan risuonerà nella sua mente, evocando ricordi di una donna che ha avuto un ruolo fondamentale nella sua vita, la dottoressa Mushgan. Lei non è solo un personaggio del passato, ma una figura che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di Fikret. Mushgan, con la sua professionalità, la sua compassione e il suo spirito indomabile, aveva toccato la vita di molti, diventando un pilastro per molti personaggi della storia. Il suo improvviso addio ha lasciato un vuoto che ha riecheggiato in ogni angolo della trama, portando a riflessioni sul valore della vita, sulla fragilità dell'esistenza e sulla necessità di valorizzare ogni momento con le persone care. In questo contesto di lutto e riflessione emerge la decisione di Fikret. La scelta di nominare sua figlia Mushgan è un gesto potente e simbolico. Non è solo un modo per onorare una persona che ha avuto un profondo impatto nella sua vita, ma è anche un segno di rispetto e ammirazione per tutto ciò che la dottoressa rappresentava. Ma c'è di più. Questo gesto trascende il semplice tributo e diventa una testimonianza della resilienza dello spirito umano. Attraverso il nome di sua figlia, Fikret sta cercando di trasmettere un messaggio, che anche nelle tragedie più devastanti c'è la possibilità di rinascita, di ricordo e di connessione con le generazioni future. Chiamando sua figlia Mushgan, Fikret sta sottolineando l'importanza di portare avanti il ricordo di chi abbiamo perduto, di conservare la loro essenza e di fare in modo che la loro eredità continui a vivere e a ispirare. E mentre la piccola Mushgan crescerà, porterà con sé il peso e l'onore di questo nome. Ogni volta che verrà chiamata, ci sarà un richiamo alla grande dottoressa scomparsa, al suo coraggio, alla sua dedizione e alla differenza che ha fatto nel mondo. E attraverso questo legame tra passato e futuro, Fikret e gli altri personaggi della SOP avranno l'opportunità di trovare consolazione, speranza e un senso di continuità anche nei momenti più bui. Con questa decisione, Fikret desidera non solo onorare la memoria di Mushgan, ma anche trasmettere alla sua bambina la forza, la determinazione e la compassione che caratterizzavano la dottoressa. Sarà un modo per assicurarsi che il ricordo di Mushgan continui a vivere e a ispirare, attraverso la vita della piccola. Ricorda che nella sua popera, Terra amara, la trama si infittisce attorno ai personaggi di Mushgan e sua zia Behice, con sviluppi che tengono gli spettatori con il fiato sospeso. Mushgan, dopo aver scoperto le verità nascoste e gli intrighi della zia Behice, decide di prendere una posizione definitiva nei suoi confronti. Behice, da parte sua, si trova in una situazione sempre più complicata a causa delle sue azioni passate, che iniziano a venire alla luce, portando a conseguenze inaspettate. Behice viene accusata di omicidio, una situazione che la mette ancora di più nel mirino di Zuleya e la spinge a considerare di lasciare Chukurova, ma non prima di tentare un ultimo disperato piano per rimanere. D'altra parte, Mushgan, dopo aver compreso la vera natura della zia e le sue intenzioni mosse unicamente dalla cupidigia, prende la drastica decisione di allontanarla definitivamente dalla sua vita, mettendo fine a ogni rapporto con lei. La tensione tra Mushgan e Behice raggiunge il culmine quando Behice tenta di rivendicare l'eredità di Yilmaz, ma si scontra con la legge e le decisioni di Zuleya, rendendo la situazione ancora più tesa. Mushgan, venuta a conoscenza del fondo fiduciario lasciato da Yilmaz per il figlio, si rende conto delle vere intenzioni di Behice e decide di tagliare ogni legame con lei, rafforzando la sua posizione con il supporto di figure chiave come Fekeli. Inoltre, Behice viene scoperta in relazione al tragico destino di Hunkar, una rivelazione che lascia Mushgan sconvolta e determinata a fare giustizia. La verità dietro la morte di Hunkar porta a conseguenze devastanti per Behice, che si ritrova ad affrontare il peso delle sue azioni. Infine, le anticipazioni indicano momenti di svolta per Mudgan e Behice, con la scoperta che l'eredità che si aspettavano dagli Yilmaz non è come immaginavano, portando a decisioni che cambieranno il corso delle loro vite. La situazione si complica ulteriormente quando le due donne decidono di lasciare Kukurova solo per affrontare nuove sfide e rivelazioni che mettono alla prova la loro resilienza e determinazione. Questi sviluppi narrativi tessono una trama ricca di colpi di scena e tensioni emotive, promettendo un finale di Terra Amara, carico di emozioni e risvolti inaspettati per Mushgan, Behice e Gili, altri personaggi coinvolti. Nel cuore pulsante di Terra Amara, la vicenda di Behice prende una svolta oscura e complessa, gettando un'ombra su ogni verità ritenuta certa. La scoperta del suo coinvolgimento nell'assassinio di Hunkar, un pilastro della comunità e figura di spicco nella narrazione, ha sconvolto tutti. Behice, con il peso di questo oscuro segreto, sceglie di buttarsi da un burrone, in un gesto estremo, per sfuggire alle conseguenze imminenti delle sue azioni. La sua morte, apparentemente chiara nelle sue motivazioni, lascia però spazio a dubbi e teorie alternative. Alcuni abitanti di Terra Amara, scettici per natura o forse troppo avvezzi ai colpi di scena della loro terra, non possono fare a meno di domandarsi. È possibile che Behice abbia orchestrato la sua stessa morte come l'ultimo, disperato tentativo di sfuggire alla giustizia? Potrebbe aver inscenato il suo fatale salto, facendo credere a tutti di aver scelto la fine, mentre in realtà si nasconde, attendendo il momento giusto per riemergere o fuggire definitivamente dalle conseguenze dei suoi atti? E poi c'è Muggan, la cui tragica fine in un incidente aereo ha strappato lacrime e domande, ma in una saga dove nulla è come sembra e ogni verità nasconde un'altra faccia, la morte di Muggan potrebbe essere un altro intricato inganno. In un mondo dove le identità possono essere scambiate e i destini alterati, potrebbe Muggan aver inscenato la propria morte per sfuggire a una minaccia incombente, forse legata al turbinio di segreti e vendette che avvolge Terra Amara? Potrebbe, in qualche modo, essere sopravvissuta, pronta a ritornare in un momento di rivelazione che cambierebbe per sempre il corso degli eventi? Questi dubbi serpeggiano nelle menti dei più attenti osservatori di Terra Amara, alimentando teorie e congetture che tengono viva la speranza, o forse il timore, di ciò che ancora potrebbe venire alla luce in questa terra di passione, segreti e vendette. Ti sei mai chiesto se Behice e Muggan potrebbero fare una sorta di ritorno spettacolare nel gran finale di Terra Amara? Sai, quelle volte in cui i personaggi che pensavamo fossero andati per sempre tornano a sorprenderci, cambiando completamente le carte in tavola. Behice, con la sua personalità complessa e il suo destino tragico, ha sempre avuto un certo fascino, non trovi? E Muggan, con la sua storia e il suo spirito, ha sicuramente lasciato un segno. Immagina solo la scena, il climax della storia si avvicina, i nodi vengono al pettine e all'improvviso, in un modo o nell'altro, emergono indizi che lasciano presagire il loro ritorno. Potrebbe essere qualcosa di sottile all'inizio, magari un accenno qua e là, che fa a pensare. Aspetta un attimo, è possibile che... E poi, quando meno te lo aspetti, ecco che si svela il colpo di scena che tutti stavano aspettando, ma che nessuno osava davvero immaginare. A dire il vero, sia Behice che Muggan avevano qualcosa di unico, non credi? Behice, nonostante le sue scelte discutibili, aveva una certa profondità che a volte ti faceva quasi simpatizzare per lei, o almeno cercare di capire le sue motivazioni. E Muggan, beh, aveva quella luce e quella forza che ti tiravano dentro la sua storia, facendoti sperare il meglio per lei. Pensa solo per un momento alla possibilità che Behice e Muggan possano fare il loro grande ritorno in terra amara. Questa non sarebbe solo una svolta nella trama, ma un vero e proprio terremoto emotivo per chi segue la serie con passione. Immagina le scene, le luci si abbassano, la musica si intensifica e contro ogni aspettativa queste figure tanto amate e forse anche temute riemergono dall'ombra, portando con sé un vortice di emozioni. Da un lato, immagina l'euforità pura dei fan, quel brivido lungo la schiena quando capisci che qualcosa di grande sta per accadere. Behice e Muggan non sono semplici personaggi, sono icone con una profondità e una complessità che hanno catturato il cuore di molti. La loro riapparizione sarebbe come ritrovare dei vecchi amici che credevi persi per sempre, una reunion tanto inaspettata quanto emozionante che potrebbe riaccendere vecchi legami e aprire la strada a nuove avventure. Ma poi, nel momento in cui l'entusiasmo iniziale si placa, sorgerebbero dei dubbi legittimi. Terra amara è già un intreccio di storie, destini e segreti, dove ogni azione ha ripercussioni inaspettate. L'aggiunta di Behice e Muggan, in questo delicato equilibrio, potrebbe scatenare onde d'urto in ogni direzione. Come reagirebbero gli altri personaggi al loro ritorno? Quali vecchie ferite si riaprirebbero e quali nuovi conflitti emergerebbero? E poi c'è la questione della giustizia e della redenzione. Behice, con il suo passato oscuro e le sue azioni discutibili, potrebbe cercare un percorso verso la redenzione o, al contrario, portare nuovi intrighi e vendette. Muggan, d'altra parte, potrebbe riportare una ventata di speranza e di cambiamento, o forse rivelare segreti che meglio sarebbe rimanessero nascosti. In questo scenario gli sceneggiatori avrebbero l'opportunità di esplorare temi profondi come il perdono, la trasformazione personale e l'inevitabile confronto con il passato. Ogni interazione, ogni sguardo o parola scambiata tra i personaggi potrebbe avere un significato più profondo, tessendo una rete ancora più intricata di emozioni e tensioni. In definitiva, il ritorno di Behice e Muggan in terra amara non sarebbe solo un colpo di scena narrativo, ma un viaggio emotivo che metterebbe alla prova le lealtà, le convinzioni e i cuori di tutti, dentro e fuori dallo schermo. Sarebbe un bene? Forse sì, forse no. Ma una cosa è certa. Sarebbe un momento indimenticabile nella storia di terra amara, un evento che farebbe discutere appassionati e critici per molto tempo a venire. Personalmente devo dire che l'idea di un loro ritorno ha il suo fascino. È quel tipo di twist che ti fa saltare sul divano, che ti fa dire no, non ci posso credere. E poi, diciamocelo, in una storia come quella di terra amara, dove le sorprese sono dietro l'angolo. Un ritorno così sarebbe la ciliegina sulla torta, non trovi? Sì, in un panorama televisivo dove il pubblico è abituato a essere sballottato tra sorprendenti ribaltamenti di situazioni e conclusioni che sfidano le aspettative più radicate, la serie Terra amara è riuscita a distinguersi come un faro di originalità e coerenza narrativa. Con il passare delle stagioni, la serie ha intessuto una trama complessa e avvolgente, che si è sviluppata in un arco narrativo ampio e sfaccettato, mantenendo però una costante che ha saputo assicurare continuità e confort emotivo agli spettatori, la nonnina Azize. Il personaggio di Azize, con la sua saggezza e il suo spirito indomito, si è affermato come un pilastro portante della saga. La sua presenza è diventata sinonimo di un'eredità di segreti e verità nascoste, di un passato che a volte ritorna per bussare alla porta del presente con rivelazioni inaspettate. Attraverso il suo sguardo, spesso permeato di un'intensità che trascende la semplice finzione televisiva, il pubblico ha potuto sperimentare un ventaglio di emozioni autentiche, dalla compassione alla tensione, dalla gioia al dolore. La nonnina Azize è un personaggio che incarna la memoria collettiva della serie, un archivio vivente delle vicende passate che spesso forniscono la chiave per comprendere gli intrecci presenti. La sua figura, con gli occhi che sembrano nascondere millenni di storie, è diventata un simbolo di resilienza e di lotta, capace di influenzare il corso degli eventi e di dettare il ritmo emotivo di ogni episodio. Non è solo un personaggio che gli spettatori hanno imparato a conoscere, ma è quasi una presenza familiare, una voce consigliera che accompagna i protagonisti nei momenti di scelta e di crisi. Questa coerenza nel carattere di Azize e il suo ruolo di narratore onnisciente è qualcosa che si vede raramente in serie di lunga durata, dove spesso i personaggi sono soggetti a sviluppi che ne stravolgono le caratteristiche iniziali. Terra Amara, tuttavia, ha saputo conservare l'integrità di Azize, rendendola una sorta di custode dei valori e delle tradizioni della narrazione, anche quando intorno a lei si susseguono eventi e personaggi nuovi. In conclusione, la nonnina Azize non è solo un personaggio, ma è diventata un elemento iconico della serie, una certezza per gelli spettatori che, in un'epoca di cambiamenti rapidi e a volte disorientanti, trovano in lei e nelle sue storie un punto fermo, un ritorno alle origini che rassicura e avvince, episodio dopo episodio. La serie televisiva Terra Amara si erge come una narrazione epica, un affresco che si estende ben oltre le convenzionali cornici temporali, tessendo la storia di Azize, un personaggio che con la sua tenacia e saggezza incarna l'essenza stessa della resilienza umana. L'intreccio narrativo si snoda lungo le quattro stagioni di trasmissione, delineando con cura i contorni di un'esistenza che si proietta nel futuro, oltre i confini temporali della fine degli anni settanta, per interrogarsi sulla sorte di Azize nei decenni a venire. La risposta che Terra Amara fornisce ai suoi fedeli spettatori non è solo un colpo di scena narrativo, ma una testimonianza di vita che trascende la finzione. La nonnina Azize, attraversando gli alti e bassi di un'epoca turbolenta, non solo sopravvive con tenacia agli eventi spesso tragici del racconto, ma si spinge oltre, raggiungendo un traguardo di longevità che rompe i confini della credibilità scenica per ancorarsi nella realtà, la veneranda età di 109 anni. Questo notevole traguardo non solo stabilisce un record di longevità nella storia turca, ma lancia un messaggio potente e universale sull'incrollabile forza dello spirito umano. La sua morte, avvenuta nel 2011, segna non tanto una conclusione, ma un punto di passaggio, un ponte tra il passato e il futuro, lasciando un'eredità tangibile di forza e resilienza. La vita di Azize diventa una fonte di ispirazione per le generazioni che la seguono, una storia che si racconta nelle case, nei caffè, nelle piazze, entrando a far parte del patrimonio collettivo di un'intera nazione. La nonnina, con la sua presenza costante e rassicurante nelle vicende di Terra Amara, si configura come un simbolo di speranza, dimostrando che, nonostante gli innumerevoli ostacoli e le inevitabili perdite, è possibile perseverare e lasciare un segno indelebile nel tessuto della storia personale e collettiva. La sua influenza si estende oltre la sfera familiare, ispirando la futura generazione. Il nipote Adnan, particolarmente toccato dai racconti e dalle esperienze di Azize, trova nel suo retaggio familiare la molla creativa per la sua carriera cinematografica. Il legame tra nonna e nipote diviene una fonte di ispirazione tale da portare Adnan a realizzare il suo capolavoro, un film che narra le vicende di sua madre Züleyah. Quest'opera, intitolata Bir Zamanlar Shukurova, si rivela essere di una tale portata che trova posto tra i candidati del prestigioso Festival Internazionale del Cinema di Berlino, un riconoscimento che trascende i confini nazionali. La narrazione di Leila, la sorella del protagonista Adnan nella serie Terra Amara, è un chiaro esempio della profondità caratteriale che la serie ha saputo offrire ai suoi spettatori. Il suo percorso si snoda attraverso la tenacia e la dedizione, in un viaggio che va ben oltre il territorio nazionale, fino a raggiungere le vivaci strade di Berlino. In questa metropoli, crocevia di cultura e innovazione, Leila segue un sentiero accademico rigoroso che la vede eccellere nel campo dell'ingegneria meccanica, una disciplina che richiede precisione, ingegno e una visione innovativa. Questo percorso non è soltanto un impegno professionale, ma diventa un viaggio di scoperta personale, nel quale Leila si confronta con nuove sfide, stringe amicizie durature e, soprattutto, incontra Mustafa, colui che diventerà la sua ancora emotiva e il compagno di una vita. La relazione che sboccia tra i due è un amalgama di passione, sostegno reciproco e comprensione profonda che si rivelerà fondamentale nel ritorno di Leila nel suo paese natale, la Turchia. Il ritorno a casa è un passo significativo per Leila e Mustafa, simboleggiando non solo la riconnessione con le proprie radici, ma anche l'inizio di un nuovo capitolo. La nascita del piccolo Demir rappresenta l'alba di questa nuova generazione, una fusione di culture e aspirazioni che Leila e Mustafa coltiveranno con amore e dedizione. Ma l'eredità di Leila non si limita alla sfera privata. La sua visione si estende al mondo degli affari, prendendo le redini dell'azienda di famiglia. Con la stessa precisione e attenzione al dettaglio che l'ha contraddistinta nei suoi studi, Leila guiderà l'azienda verso l'innovazione e il successo, diventando una figura chiave nel panorama industriale turco. La sua leadership è caratterizzata da un'intelligenza strategica e da un approccio moderno alla gestione aziendale, elementi che la porteranno a trasformare l'azienda di famiglia in una delle realtà imprenditoriali più prominenti del paese. Il viaggio di Leila, da studentessa a capoazienda, da Berlino a Siukurova, è un viaggio non solo geografico ma anche interiore, una storia di crescita personale e professionale che si intreccia con i temi universali dell'amore, della famiglia e dell'ambizione. La sua storia è un tessuto di eventi che si legano l'uno all'altro, mostrando come l'individuo possa plasmare la propria vita e, al tempo stesso, essere modellato dalle esperienze vissute. Leila, con la sua resilienza e il suo spirito pionieristico, diventa così un faro per le future generazioni, incarnando la possibilità di un successo che va oltre le aspettative e che ridefinisce il significato di realizzazione personale. La serie Terra Amara, con la sua profondità e la sua capacità di intrecciare i fili del passato con le speranze del futuro, si conferma un racconto di vita, un inno alla perseveranza e all'imprescindibile valore delle radici familiari. La nonnina Azize, con la sua storica presenza e il suo spirito indomito, si erge come simbolo di una tradizione che non tramonta, di una saggezza che si trasmette di generazione in generazione, plasmando destini e alimentando sogni. Le sorprendenti dichiarazioni della nonnina hanno trasformato la trama in un vortice di emozioni e rivelazioni inaspettate, tenendo gli spettatori sul filo della tensione ad ogni episodio. La sua capacità di tessere la narrazione con dettagli apparentemente secondari che si rivelano poi fondamentali ha creato un'atmosfera carica di aspettative. Ora emerge una nuova teoria potenzialmente rivoluzionaria. Demir potrebbe non essere il figlio biologico di Hankar. Questa rivelazione sarebbe un vero e proprio terremoto narrativo, ribaltando dinamiche e legami fino ad ora dati per scontati. Se ciò fosse vero, ci si potrebbe aspettare una serie di conseguenze drammatiche per i personaggi coinvolti e forse anche una riscrittura della loro storia personale. La domanda ora è, se Unkar non fosse la madre di Demir, allora chi potrebbe essere la donna che ha dato alla luce un personaggio così centrale nella storia? Questo interrogativo apre la porta a un mare di speculazioni e teorie, ognuna con il potenziale di aggiungere ulteriori strati di complessità alla trama già ricca. La risposta a questa domanda potrebbe essere nascosta nelle profondità delle stagioni passate, in un dettaglio trascurato o in una linea di dialogo apparentemente innocua che adesso assume un nuovo significato. Invitiamo tutti voi, appassionati e detettivi del divano, a condividere le vostre teorie e ipotesi nei commenti sotto al video. Chi di voi svelerà il mistero? Qual è la vostra intuizione sulla vera ascendenza di Demir? Le teorie più interessanti e convincenti potrebbero essere discusse nel prossimo video, aggiungendo un ulteriore livello di interazione e coinvolgimento nella nostra comunità di fan. Quindi scrivete, ipotizzate e analizzate, il dibattito è aperto. Ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perdere le prossime anticipazioni di terra amara.